Nuova preoccupante battuta d'arresto per il Circolo Villani, sconfitto 11-7 dal non certo irresistibile Rainantes Roma. Uno scivolone che di fatto estromettica Sertani dalla rincorsa alla salvezza diretta. Per partecipare al prossimo torneo di Serie B dovranno passare per i play-out. Con la squadra a completo il Circolo è rimasto in gara per meno di tre tempi. Per non parlare dell'inesima espulsione stagionale, stavolta di Gagliazza, segno del troppo nervosismo. Nel primo quarto De Giovanni portava avanti gli ospiti dopo quattro minuti. Il pari di Trocciolo con un tiro da 5 metri. Nuovamente De Giovanni in superiorità e Roma sul 2-1 ad inizio secondo parziale. Di Santo pareggiava nell'azione successiva e il match viaggiava sul fluo dell'equilibrio. Almeno fino a quando Gianni e Scogna Millo consentivano alla Rarionantes di provare la fuga. Rossi accorciava ad una manciata di seconde dalla fine, ma nel terzo periodo arrivava il break decisivo. De Giovanni allungava con la complicità della traversa e dello sfortunato Sansa. Guastamacchia con l'uomo in più, poi Trocciolo faceva 4-6 tenendo accesa la fiammela della speranza. Botta e risposta nell'ultimo tempo. Beduina di Guastamacchia, Gianluca Villani rispondeva da posizione 4, quindi controfuga di De Giovanni e dopo le espulsioni di Cagliazza direttamente dalla panchina non c'era più nulla da fare. De Giovanni colpiva due volte strappando applausi per una pregevole palombella. La difesa si dimenticava Lolli che non sbagliava, gli ultimi sussulti erano di perna e trocciola, davvero troppo poco per una squadra che con qualche sacrificio in più avrebbe potuto centrare l'obiettivo senza faticare più di tanto.